Este, in assenza dei genitori, danno una festa in casa e si trovano derubati di tutti i gioielli. Da due amici, un ventenne e un quindicenne. A portare alla luce il furto sono stati i genitori che, al ritorno dalle vacanze, hanno notato l'assenza dei gioielli. Un bottino di circa 20.000 euro. E così è scattata la denuncia ai carabinieri. Parte dell'area furtiva è stata trovata e riconsegnata, ma mancano ancora l'appello preziosi per un valore di 10.000 euro. Grazie.